Eccoci qua, Conduct Deluxe, che sentite qualche musichetta ragazzi Oddio presto, allora, l'obiettivo è non far esplodere il treno, è perfetto per un bolognese come me Qua c'è la stazione, i treni si fermano automaticamente le stazioni, poi fa il giro, posso anche cambiare alla curva delle rotaie Ecco fatto, poi si ferma in un'altra stazione, cambio di passeggeri, mi pagano i soldi, attenzione colore blu, devo andare nella stazione blu Ed ecco voi il gioco, questo è il tutorial, è semplice, quindi il gioco è molto, abbastanza chiaro, ok? Vedete, carico i passeggeri sul treno, lo porto da una stazione all'altra stazione e fino ad adesso basta, però attenzione sta arrivando, no, no Questo è ciò che dobbiamo evitare, arriviamo nella seconda, fermiamo subito il treno, aspettiamo che passi l'autobus e riparte Che vedete c'è anche il tempo in alto a destra, voi dovete farlo dentro un limite di tempo, altrimenti sarebbe troppo facile, capito? Bisogna farlo anche dentro tot tempo, perfetto, all'inizio è già diventare più complicato qua, c'è sempre l'autobus che va avanti e indietro Vabbè, sono ancora i primi livelli, poi io ci ho già giocato, quindi un po' conosco già il gioco, lo ammetto, è un po' cheating Oh, no, 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 oh, calma Nooo Pensavo si fermasse prima Micchia, inizia a diventare già complesso con due treni qua Vai, andate, che ragazzi dobbiamo fare in fretta, non ci abbiamo molti secondi Avremo tanti secondi, ma vedete la fetta di torta verde? Ecco, per avere tre stelle dobbiamo farlo prima che arrivi al giallo Ok, sembra che abbiamo preso un'ottima linea di tiro Occhio, ragazzi, non abbassiamo la guardia Vedete, se arriva al giallo Nooo, nooo Alla fine quattro stronzi mancavano, quattro stronzi mancavano E che era più facile quando giocavo per conto mio, non avevo la chat da tenere d'occhio, capite? Quindi, diciamo, mi trovavo un po' meglio Ah, stavolta stiamo attenti qua sopra Ecco fa Fermato Nooo, Dio Cristo, all'ultimo secondo Eh, ma sono un po' distratto, scusate, adesso cerco di concentrarmi Ok Via, 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 veloci, veloci Eh, comunque i livelli sono diversi rispetto a quelli sulla Switch Almeno a me pare, questo non me lo ricordo Stop Via Ok Nice Tre stelle Ah, oddio, qua passano anche i treni merci Allora Oddio Allora L'estia, fermo un attimo Ok, via Adesso è facile che abbiamo sempre e soltanto un colore di stazione Ma quando diventerà... e poi diventa più complesso No, 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 no Oddio Buon pomeriggio Era più facile col joystick, devo dire Prose che non si sente molto spesso Nice Oh, vedete, ecco, adesso iniziano ad esserci colori diversi Allora, adesso va al rosso E qua dopo lo spostiamo Vediamo un po' Giallo Adesso dobbiamo andare nella stazione gialla Oddio Oddio un altro treno Eh Oh Uff Devo stare un po' No, no Non è così facile come sembra Questo è andato liscio Oh, abbiamo sbloccato il regalo Sgancia il regalo Cosa ci sarà dentro, ragazzi? DF4 È un treno cinese del 1969, ragazzi Andremo col treno cinese Guardate che... Oddio, però effettivamente il colore è un po' incasinato, eh Forse devo fare così qua Ok, ho paura di perdere troppo tempo in questo modo Ok Liscio come l'olio, ragazzi Guardate qua Guardate qua Perfetto Ho trovato la sincronia perfetta, signori Guardate qua che meraviglia Neanche a farlo apposta ci sei riuscito Ecco Bra... È bravo il treno cinese È perché cinese, per quello Raga, vi piace sto gioco? Io appena ho giocato per Switch ho detto Per me questo è un bel giochino a portare nell'epo meridiana Allora Direi che qua c'è... Oddio... No! Aspetta... Oh, ho capito Qua dovevo farlo andare dritto, questo Maledetti Andà, andà, c'è... Tragedia, ragazzi Tragedia assoluta Devo farlo passare in questo, in questi li devo mandare dritti Sono i treni merci, loro devono andarsene a fanculo Perché quelli non posso controllarli C'è loro vanno, capito? Non posso stopparli Pip Pip Allora, vediamo se passa Ebbè, certo che passa Soltanto per rompere i coglioni passa quello Vai Gira Ecco i palle Muoviti Non abbiamo tempo da perdere qua Ce la sto facendo perfetto, sì Vabbè, alla fine l'iter è sempre quello Quindi C'è una volta che prendi il ritmo Abbastanza facile, sto livello Easy Allora, cerchiamo di capire Qua vai in questo tunnel qua Da dove esce? Dal blu Ok Quindi se noi facciamo così Nel tunnel di mezzo dovrebbe andare nel rosso Allora, rosso e blu di qua E' altro livello abbastanza easy Qua è per farti carburare un attimo, capito? Inizia ad entrare complicato Lo mandiamo nel blu Va bene Speriamo non si schiantino Ok Rosso Blu Micchia qua C'è da tenere d'occhio qualsiasi cosa Qua c'è blu Rosso Rosso Dovevi anche cambiare di nuovo Vabbè, sono bravissime a sto gioco Ecco qua Easy Smuggler's Bay Ok Ah qua, ok Blu è qua in alto a sinistra Qua sotto c'è una stazione rossa Qua però deve andare nel giallo Quindi lo mettiamo così Ah, quelle sotto sono entrambe rosse Ok È abbastanza facile così Semplicemente questione di smistamenti Facile per modo di dire Qua ragazzi Succederà qualcosa di brutto Non so perché Ma ho com'è Quanti terrenici sono ragazzi Quattro Ok Il primo va di là Oddio Devo stoppare il prossimo Devo stopparlo Mamma mia Cosa ho fatto Mamma cosa ho fatto Che riflessi Ok Ok Anche questo dovrò stopparlo Perché siamo troppo vicini Troppo vicini Ragazzi No All'ultimo secondo Ok Il primo è giallo Che è entrato Il secondo pure Mi pare giallo Sì Questo qua pure Tutti gialli sono Benissimo Benissimo Oh cazzo Allora il primo è blu Il secondo pure è blu Blu Questo è giallo Giriamo Ok È arrivato un altro treno Allora il prossimo è blu Quello dopo ancora è giallo E quello dopo ancora di nuovo è blu Quindi blu E poi giallo Anche quello dopo è giallo Devo fermarlo prima che faccia Boom No La bu È troppo fattutamente difficile Sto gioco Allora giallo Mica però rischiano di fare boom Ragazzi rischiano di fare No Ok ok Blu il prossimo Oddio Dai muoversi Allora giallo il prossimo è blu Oddio Ok ho dovuto dare un po' di tempo a quello Quello dopo è giallo Quindi blu Giallo il prossimo Questo cos'è blu Perfetto Quindi il prossimo è blu Questo qua è blu Perfetto Blu anche questo Tutti nel blu Quello dopo ancora è giallo Quello dopo ancora 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 è giallo di nuovo Perfetto Il prossimo è giallo Il prossimo ancora è blu Ho trovato il ritmo Ho trovato il ritmo Oh yes Pond Ah Come cazzo faccio A fargli fare il giro a questo E vai nel giro No Molto male Molto male Allora dove va viola E ti pareva che deve essere viola Giustamente No non è così che devo Vabbè No San Gennaro Fai se che riesca a finire questo livello È fottutamente complicato Sto livello Ok Viola Come lo faccio arrivare No No cazzo Non l'ho fatto in tempo No brutto 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 Vada via Vada via Qua devo fare il cambio Perfetto Blu Che direi di fare No cazzo ho missato Ok Viola qua sotto Qua dobbiamo andare il blu Adesso cosa è diventato Rosso Rosso deve andare Va bene Facciamo fare il giro da qua dietro E questo mi sa che è da rifare ragazzi Non c'era Non avevamo dubbi Non avevamo dubbi ragazzi Allora No Meno male che non l'ho fatto ragazzi Questo se ne va dritto Dalla stazione blu O lì va alla stazione rossa Raccoglie altri viola Perfetto Blu No Ma perché No non l'ho fatto girare Madonna Santa Anche quello deve andare Alla stazione rossa Oh cazzo Io dovrei fare così Dimmi che non è giallo È giallo Ho detto dimmi che non sia giallo E niente Doveva essere giallo Doveva essere giallo Allora viola Bene facciamo passare di qua Così e così Via Entrambi gialli Potrebbe essere un problema Eh forse conviene Fa una roba del genere Non vedo soluzione migliore Ok Giallo diventa rosso Va bene Questo viola Va bene Viola No no Fatti in tempo Ma allora a sto punto È meglio fare così ragazzi Una volta che sbagli troppo Dici vabbè Lasciam stare Lui deve andare dritto E lui pure deve andare dritto Perfetto Così deve essere Così mi piace ragazzi Così va bene Va bene va bene Via Viola Io direi di far riprendere un po' di Qua dal giallo Che ce ne sono Di viola Perfetto Poi deve andare dritto il viola E quest'altro invece pure Con calma Adesso ci andrà Prendi altri viola Perfetto Blu Un po' male Ma va bene lo stesso Dai viola di qua Blu va sopra No vai 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 No ho sbagliato Blu deve andare dritto Questo deve girare Perfetto L'inizio è buono ragazzi Questo deve andare nel blu Adesso con calma Ce lo mandiamo No vai pur dritto Prendi un po' Un po' di gialli in più Ok Via Perfetto ragazzi Così va bene Guarda anche quanti ne sto accumulando Perfetto Perché non è essenziale Andare subito alla stazione giusta Capito C'è l'importante E fare i passeggeri Finché c'è spazio Non c'è bisogno di andare subito Nella stazione giusta Qua dobbiamo andarlo avanti per forza Se no Va a fare Noi sappiamo cosa Ecco Eh minchia Il blu è stracarico Però va a vesti cazzo Dobbiamo farlo aspettare Dobbiamo farlo aspettare Dimmi che è rosso Perfetto Bello rosso Bello bello Vai poi giriamo qua Oh cazzo Entrambi dal blu devono andare Facciamolo aspettare Un po' mi dispiace Dall'aspettare Ma non c'è altra soluzione Va bene Ok questo dovrà andare al rosso Passano Liscio Oddio Dai Eh minchia Mi sa che non fa in tempo Non si fa in tempo Vabbè Ci accontentiamo delle due stelle Ma si dai Accontentiamoci delle due stelle Almeno andiamo un po' avanti Con i livelli Ok quella è la stazione blu Ok quindi sopra blu Sotto rosso Va bene E il prossimo è il giallo Tutto è al giallo Tampo uscirà Eccolo lì Lo sapevo il figlio di puttana Lo mandiamo a scampia questo Lo mandiamo a scampia Ok Rosso E il prossimo è blu Oddio Vada via Amica questo gira di co Rosso Vada via Ok easy Occhio E devo dargli un po' di tempo ragazzi Occhio No Cos'è cazzo Bella madonna Ok blu Dimmi che è giallo No è blu Ma perché è questo Oppure questo è blu Vabbè non lo so Giallo No ro Ma che cazzo No Vai via Che casino sto cazzi treno merci Giallo è giallo Let's go Via Quello lì lo mandiamo fuori Jakov 397 Cirdix 100 Scusa Rick Ma i treni che esplodono in galleria Sono una reference storia Alle brigate rosse Grazie Jakov No Non lo sono Vedi a leggere le stronzate Jakov A leggere le stronzate Tutto 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 Ok Rosso Prossimo blu Devo giocare di anticipo ragazzi Blu e blu anche questo Tutti blu sono I treni dei puffi Giallo Vai dal giallo Questo sarà rosso sicuro Ok Oddio Oddio Madonna Tutti rossi siamo Va bene Va bene Blu La musichetta del cazzo Sempre Ah Bip L'importante è fare bip Nella vita Ricordatevelo Ok Entrambi rossi questi Nice Ora possiamo andare Con calma Allora Blu Rosso Fermi Non muovetevi Ok Ok ragazzi Ok va bene Va bene Ci piace così Va bene Gli altri Non scaricherà mai Le merci a quanto pare Questo deve girare intorno Per tutto il tempo Per tutta la sua vita No 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 Vada via Vada via Oddio Sono riuscito Oddio Sono riuscito a buttarlo fuori Questo stronzo Va bene Va bene Abbiamo perso un sacco di tempo Ma siamo vivi Nella vita è importante essere vivi Michi abbiamo Avremmo preso tre stelle Se non fosse stato per quello Cazzo Avremmo preso tre fucking stelle